Eccoci all'Ergeklikersmuseum Qui c'è l'esercito C'è l'esercito che passa Soldati Un tedesco Mappa Il orologio Il vestone di Felmariscello La lettera di Raimondo La lettera di Raimondo Soldati Ritratta Valerese che clicca sul museo La stemma di Raimondo La battaglia di San Gottardo I turchi La testa del turco La trafigurazione della battaglia Raimondo La testa del turco